Adesso sono in Italia, di solito d'estate, cerco di stare in Italia per quanto possibile in base ai lavori, commissioni e cose varie però di solito luglio-agosto sono qui e tra l'altro c'è con me anche Masha e stiamo vagamente capendo se e come iniziare a convivere e quindi sono molto contento per questa cosa poi in realtà stiamo convivendo da inizio giugno perché lei è venuta a Dubai dopodiché il visto per entrare in Italia le partiva il 2 di luglio e quindi fino ad allora siamo rimasti a Dubai in realtà prima di venire qui in Italia abbiamo fatto uno scale in Turchia e questo era il punto di tutta questa premessa perché lei può entrare in Turchia visa free cioè all'ingresso le fanno il timbro sul passaporto e può entrare qui in Italia invece per prendere il visto, lei è russa, per prendere in vista ci mette un po' di più ci ha messo circa tre mesi però fortunatamente gliel'hanno dato quindi si può ancora fare, prendere e qualsiasi cosa quindi dato che a Dubai faceva caldissimo abbiamo deciso di farci un periodo in Turchia mentre aspettavamo che le partisse il visto per l'Italia che le partiva il 2 di luglio per poi entrare insieme in Italia e l'unico paese che ci permettesse anche di avvicinarsi all'Italia uno dei pochi paesi che ci permettesse anche di avvicinarsi in Italia dove lei russa potesse entrare era la Turchia e tra l'altro ci ha fatto anche comodo andare in Turchia perché non so se avete seguito però la lira turca negli ultimi mesi ha perso il 30-40% ed è stato anche abbastanza folle come scenario il nostro vantaggio è il fatto che noi guadagniamo in euro, dollari, sterline o chi per voi non in lira turca quindi adesso viaggiare in Turchia costa molto poco proprio perché lì si paga in lira turca e noi con il cambio ci guadagniamo mi ha fatto molto ridere che prima di partire eravamo in aeroporto e c'era uno Starbucks abbiamo preso due birilloni di caffè, non so neanche come chiamarli, porzioni di caffè da mezzo litro e a Dubai ti costano una decina d'euro l'uno, 7-8 euro l'uno quindi abbiamo speso in tutto 15 euro, una cosa del genere, tra i 15 e i 20 euro non mi ricordo neanche più lì abbiamo fatto scalo per arrivare poi a Bodrum abbiamo fatto Dubai, Istanbul, Istanbul, Bodrum Istanbul, Bodrum è un volo da un'ora ad Istanbul dato che c'erano delle sue amiche siamo usciti dall'aeroporto perché lo scalo durava 6 ore e siamo andati in un altro Starbucks sempre lì e lì per le stesse cose più una limonata offerta alla sua amica ho speso 6 euro quindi un terzo e in realtà la prova che si fa in questi casi proprio per vedere il costo della vita in ogni paese c'è quel test che fanno dei burger di McDonald's vedono in base al paese quanto costa il burger in base a quello determinano il costo della vita è poco scientifica questa cosa però è interessante sicuramente ma al di là di quello fare scala in Turchia c'è il mare lì è devastante tra l'altro faceva molto ridere eravamo in questo resort tra Izmir e Bodrum come vi dicevo e davanti adesso vi faccio vedere perché posso aprire le mappe effettivamente dagli Emirati Arabi abbiamo fatto Emirati Arabi Istanbul, Istanbul, Bodrum poi da Bodrum abbiamo preso un autobus che ci ha portati in sto resort qui 101 euro a notte che costa così poco proprio perché la lira turca ha fatto un'inflazione folle infatti se guardate 1 euro quasi 29 sta guardate questa è la lira turca cioè considerate che da un giorno all'altro praticamente ci sono persone che hanno perso potere d'acquisto internazionale del 30% 40% anche ci siamo passati da 1 a 20 lire turche a 1 a 30 lire turche ho un amico che ha venduto un amico turco che ha venduto una villa in Turchia e ha un milione e mezzo di dollari in pari valore in lire turche e purtroppo non ha cambiato abbastanza in fretta le lire turche in dollari e ha perso il 30% cioè si è trovato con 400 mila dollari in meno soltanto perché aveva questi soldi bloccati nella trattativa e non ha fatto in tempo a cambiare il tutto una follia dal nostro punto di vista noi siamo soltanto avvantaggiati perché ci costa meno andare in Turchia e tra l'altro il volo di rientro l'ho fatto da Izmir che si trova qui Smirne non so come si chiami perché sulla mappa in inglese c'è scritto Izmir qui è Smirne boh e che c'è l'aeroporto qua e faceva volo diretto Izmir-Venezia fantastico e niente poi vedrete quanto ha speso e come era un po' la zona faccio vedere un attimo c'era vediamo se c'è qualche foto discreta però vabbè se avete visto i video su Instagram tra l'altro il questo resort è in mano a Kazaki mi pare sì il proprietario è un Kazako petroliero non ho capito bene io l'ho scelto semplicemente perché c'erano i campi da tennis e volevo allenarmi però vabbè obbligazioni in lira turca male 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 chi ha investito in Turchia in questo periodo non è andata benissimo vediamo da qui in avanti è anche particolare per loro cioè per tutte le persone che gestiscono il turismo è quasi un vantaggio tra virgolette però guadagnano sempre in lira turca che bisogna andare a vedere che fine farà tra un anno non lo so cioè questo è nell'ultimo anno questo è negli ultimi cinque anni che poi io negli ultimi due anni ho fatto penso una quindicina di scali ad Istanbul sia tra Sabina che a Istanbul centrale perché ci sono due aeroporti e in realtà le compagnie aeree come Turkey Shareline stanno guadagnando una follia di soldi perché la Turchia è uno dei pochi paesi dove si può ancora viaggiare ovunque e accetta tranquillamente voli dalla e per la Russia e quindi è uno dei pochi porti dove io posso passare per andare in Russia quando andavo a visitare la mia ragazza quindi tipo negli ultimi due anni ho visto come vi ho fatto vedere qui continuare ogni volta che tornavo all'abbassamento della lira turca cioè ogni volta che tornavo per un euro mi davano sempre più lire turche cioè considerate che nel 2000 sono andato la prima volta a maggio 2021 per un euro mi davano 10 lire e 45 adesso quando sono tornato me ne davano un euro 28 lire impressionante e al di là di questo un'altra cosa che notavo ogni volta che andavo gli aeroporti i due aeroporti sia quella di Sabina che quella centrale diventavano sempre più grandi quindi da una parte cioè è complesso è molto complesso e tra l'altro stanno andando un sacco di persone in Turchia perché proprio per questa situazione in Russia in Ucraina tantissimi amici della mia ragazza sono finiti in in Turchia se non a Dubai soltanto che a Dubai il costo della vita è molto più alto che a Istanbul quindi tre quarti delle persone poi va a finire a Istanbul in Turchia o comunque in zone limitrofe dove possono viaggiare possono andare possono tra virgolette rifugiarsi o scappare senza problemi di visto perché in Europa per esempio come vi dicevo prima la mia ragazza ha bisogno del visto e ci ha messo tre mesi per farsi il visto qui in Italia che è un punto che è un punto